che tutt'ora gli sopravvive attraverso le azioni sanguinarie dei ribelli. 25 gennaio 1959 Tre mesi dopo la sua elezione, Giovanni XXIII, in una omelia nella Basilica di San Paolo fuori le mura, annuncia l'indizione di un concilio. Venerabili fratelli e diletti figli nostri, comunica il Papa. Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione, di un sinodo diocesano per l'urbe e di un concilio ecumenico per la Chiesa Universale.